Musica Abbiamo sentito Mr. Zavettieri, qui abbiamo Kenneth Obolo. Kenneth, vincere questa partita è stato fondamentale. Questa è una partita che veramente si può anche perdere e vincere. Oggi abbiamo dimostrato che siamo un gruppo importante. Quella è una partita che si può perdere e che si può anche vincere. Per fortuna, grazie a Dio, abbiamo riuscito a vincere questa partita che è importante per noi. A un certo punto, quando c'è stato quel gol della Lupa Castelli Romani, chiaramente si poteva andare in difficoltà, in crisi. Il primo tempo è stato negativo, poi nella ripresa è scattato qualcosa in voi? Secondo me, dopo che abbiamo subito quella gol, abbiamo una possibilità per fare di più o meglio. Però è una cosa più importante che oggi, dopo la difficoltà, abbiamo riuscito a portare il tributo in casa. Quella è una cosa importante per questo momento. L'impressione che il clima della partita, con pochi tifosi, la considerazione che il campo non era in buone condizioni, una Lupa Castelli Romani che sembrava che la Lupa Castelli Romani avesse più fame. Questo vi ha creato delle difficoltà? Perché all'inizio abbiamo visto che in mezzo al campo non riuscivate a respirare. Strasser e tutti gli altri vi prestavano la grande. Non c'è la circolazione di palla per la Juve Stab? Giustamente perché oggi al campo non ti permette di giocare a caccia. Però soprattutto è una cosa più importante che oggi, dopo la difficoltà, come diceva lui, dopo la difficoltà al primo tempo, poi alla fine abbiamo riuscito a portare il tributo in casa. Secondo me è una cosa più importante per noi adesso. Perché siamo venuti da tanti pareggi. Secondo me questa vittoria ti fa crescere di più. Ecco, l'hai sempre detto in questo momento con la Juve Stab che stava per scivolare verso le zone basse della classifica era importante vincere più di una volta, l'hai detto, dobbiamo vincere anche se non giochiamo bene. Oggi diciamo che avete giocato male fino al settantesimo, poi gli ultimi 20 minuti è uscita fuori la Juve Stab però ecco possiamo dire che di positivo c'è solo il risultato. Questa volta è la fortuna del nostro padre perché di solito quando mancava 5 minuti pareggiamo sempre partita. Questa volta è andato bene per noi, abbiamo vinto, abbiamo portato i tributi in casa in 20 minuti che vuol dire che siamo una squadra importante. A questo punto però tre vittorie fuori, una sola in casa e proprio in casa che manca a qualche punto bisogna vincere la prossima. È quello che dicevo io sempre a Castanamare, quando veniva a Castanamare l'avversario deve avere paura di scendere il campo e speriamo che questa vittoria li possa crescere la prossima partita in casa perché abbiamo bisogno di vincere. Quanto è difficile per voi, al di là di tutto quello che è successo, giocare da una settimana all'altra dal sintetico, del menti a non sempre campi bellissimi in erba? Non deve essere sempre facile? Poi qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che lo sai in Cina si trovano campi belli, però è capitato oggi che abbiamo trovato un campo che non si possa giocare, però giocare a campo sintetico a campo l'erba è diverso, molto diverso, li fanno un po' difficile.